buongiorno a tutti ragazzi allora estrazione del 18 febbraio ormai questo giochetto piace e io lo riproporrò sempre perché non pensavo non pensavo che mi arrivavano così tanti scontrini di questa previsione ovviamente è inutile che ne faccio vedere tanti ne faccio vedere qualcuno mi avete insomma mi avete stupito perché non pensavo che stai giocando su tre ruote tre numeri sono arrivati anche scontrini importanti questo è un euro e cinquanta di ambetto sopra sono arrivati scontrini con 10 15 20 euro di ambetto sopra perché avete capito che su questa previsione paga moltissimo lambetto complimenti 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 ne faccio vedere qualcuno ripeto non pensavo che mi arrivassero così tanti scontrini pur essendo una previsione a tre numeri non ha mai pagato il terno secco insomma complimenti e grazie e grazie assolutamente per me questa previsione si può continuare assolutamente perché avete visto che quando escono i numeri noi andiamo a rigiocare questi numeri perciò per me la previsione si continua e devo dire anche bravissimi a chi ha continuato onestamente ha stupito anche me questa previsione del 26 ha stupito anche me perché è vero che è una tecnica fortissima è vero che l'avevamo data nel servizio telefonico della settimana scorsa ma vedere su quattro estrazioni quattro vincite è qualcosa di spettacolare non sono arrivati tanti scontrini perché ovviamente io avevo detto di abbandonare questa previsione perché perché ovviamente dopo che era uscito cioè ha iniziato a pagare sulla nazionale con 25 3 il 13 febbraio colpo successivo 230 su cagliari colpo successivo 26 e 31 su bari e ieri sera bellissimo ambo secco no scusate sì ieri sera bellissimo ambo secco ancora 26 e 3 sulla ruota nazionale questo a dimostrazione è che il servizio telefonico funziona e funziona grande a volte qualche previsione ci mette un po più di colpi a uscire su questo non ci sono dubbi non ci siamo mai nascosti dal dire che non è detto che possa uscire a colpo ma come questa è la prova evidente che la previsione del 26 su 5 estrazioni ha pagato quattro volte perciò questa è una tecnica fantastica stupenda complimenti a tutti quanti allora per voi di youtube ovviamente per me la previsione validissima è questa si continua genova milano napoli col 54 84 come ambo primario e poi 54 84 24 e vi ho messo il numero 10 come jolly quindi ovviamente per me è una previsione da continuare fino a sabato anche perché come vedete la cadenza 4 è forte perciò può tranquillamente ripetersi allora detto ciò come avevo promesso avete preso in tantissimi lambo unico su due ruote perfetto siamo al secondo colpo di gioco si continua le previsioni del servizio telefonico sono tutte valide perciò senza che vi mandate il messaggio su whatsapp se avete preso quella con i numeretti si continua a maggior ragione dal quadro estrazionale di ieri si continua quella previsione con i numeretti e quella previsione sulle due ruote diametrali assolutamente la l'estrazione di ieri ha rafforzato queste due previsioni ok allora come promesso solo per oggi la terrò oggi e domani ovviamente sarà messa nel mio gruppo abbonati ma come promesso ieri la tecnica che tanti di voi aspettano aspettavano eccola qui per oggi e per domani non è facile fare le cose con due mani vabbè ma noi ci proviamo eccola qui ancora c'è ancora c'è ambo col 26 pronte a colpire guardate questa l'avevo messa una settimana fa allora come promesso oggi e domani e anziché tenerla quattro giorni perché questa è una previsione che ha validità ve lo dico prima ha validità fino alla prima estrazione fino alla prima estrazione perciò ha pochissimi colpi è una tecnica bellissima è una tecnica col del 69 70 che voi tutti non conoscete la tecnica ma conoscete la potenza di questa tecnica beh novità assoluta ci sarà un solo abbinamento c'è un solo abbinamento perciò sarà messa nella servizio telefonico di oggi e di domani poi non la troverete più soltanto due giorni per poter prendere questa previsione qui andiamo a giocare ovviamente per lambo secco ma andiamo a provare il terno secco perché saranno solo tre numeri solo tre numeri non ci sarà una lunghetta non ci sarà il secondo abbinamento qui abbiamo un abbinamento soltanto e giocheremo anche per il terno secco questa tecnica questa previsione vi ha già fatto vedere in passato cosa ha fatto cosa ha fatto qui nel giro di due massimo tre colpi mi aspetto minimo lambo secco di questa tecnica perciò il servizio sarà attivo dalle 9 non dalle 10 dalle 9 fino alle 23 per poter prendere questa previsione questa previsione a differenza delle altre previsioni che riteniamo per quattro giorni sarà data solo in esclusiva per oggi e per domani nel gruppo abbonati sarà postata oggi pomeriggio perciò vi dico solo una cosa la previsione non la pagate neanche due euro ma non la pagate neanche due euro perché è una previsione che in 30 secondi la diamo sarà difficilissimo oggi prendere la linea perché già mi aspetto una marea di chiamate insistete se sentite la segreteria mettete giù e riprovate abbiamo quattro linee attive da questa mattina alle 9 fino alle 11 perciò avete tutto il tempo se vedete che questa mattina non riuscite a prendere la linea provateci anche dopo cena che magari c'è un po più di calma non perdete l'occasione perché a neanche due euro prendete questa previsione e qui andiamo a giocare per il terno secco quando chiamate dite esplicitamente la previsione del 69 e 70 ragazzi con questa previsione andremo in cassa alla grande 895 895 5541 per vincere tutti quanti assieme noi ci vediamo più tardi dal capitano è tutto un grosso besos ciao